Buon pomeriggio a tutti cari amici fan e buona giornata che continua parliamo adesso di calcio maschile amichevoli nazionali nazionali under 19 da poco qualche minuto circa è finita Italia under 19 contro Svizzera under 19 gara terminata con risultato ad occhiali 0 a 0 segno X boccato a 4 e 20 appunto dei bookmaker la nostra Italia under 19 verso fine marzo inizierà le qualificazioni per la prossima rassegna continentale credo gli europei di categoria presumo dal 2021 quindi Italia contro Svizzera under 19 0 a 0 ciao a tutti